segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sondaggio demos che ci dice lega nel 2018 aveva circa 800 mila voti assoluti in più di fratelli d'italia che oggi potrebbe averne 400 mila in più ti chiedo preghiasco in funzione di tutti gli studi che state facendo qual è la notizia che secondo te è la notizia rispetto alla campagna elettorale quello che abbiamo visto era appunto una sintesi di un sondaggio di demos sul veneto che racconta credo tiziana una dinamica comunque importante da osservare ovvero la crescita di fratelli d'italia anche nel centro nord cioè là dove siamo stati abituati a considerare la lega il partito egemone e che trena voti alla lega beh sicuramente sì sicuramente sì in buona parte e tant'è che insomma questo risultato possibile del veneto sarebbe abbastanza clamoroso perché appunto nelle ultime elezioni c'era un enorme vantaggio della lega su fratelli d'italia questo sondaggio mostrebbe invece un raddoppio di fratelli d'italia sulla lega quindi piuttosto forte come elemento e questa mi pare una delle cose sicuramente più interessanti da notare l'altra è quanto i risultati elettorali dipendano dal sistema elettorale e quindi un centrodestra e l'abbiamo detto tante volte davanti come voti a livello nazionale come coalizione in un certo senso vedrebbe amplificata la propria maggioranza parlamentare grazie agli ottimi risultati nei collegi uninominali quindi un certo senso il rosatellum e il modo in cui funziona il rosatellum potrebbe consegnarci un quadro molto più netto di quello che avremmo con un sistema chiaramente proporzionale allora voglio tornare un attimo sulla questione veneto che mi sembra molto interessante e tra l'altro sta arrivando brugnaro che il sindaco di venezia e quindi diciamo guardarli anche con lui quei sondaggi sarà interessante però prima voglio sentire